Prove di carico statiche e dinamiche su alcuni ponti della viabilità provinciale. Le sta effettuando per conto della città metropolitana di Torino la ditta in situ di Trieste nel quadro dei piani di controllo e monitoraggio predisposti dall'ufficio tecnico specialistico e dall'ufficio opere d'arte e catasto ponti della direzione coordinamento viabilità per verificare le condizioni delle infrastrutture e la rispondenza ai requisiti per i quali sono state progettate e programmare gli interventi di manutenzione. Le prime prove di carico statiche e dinamiche sono state effettuate sul ponte sulla Stura di Lanzo della provinciale 18 Robassomero-Cirie, su quello sul Po della provinciale 20 a Carmagnola, sul ponte di Rueglio della provinciale 64 nel comune di Val di Chi e su quello sull'Orco sulla provinciale 460 a Sparone. Altre verifiche sono in programma sulla provinciale 23 a None, sulla 143 di Vinovo, sulla 6 di Pinerolo a Rivalta di Torino. Queste prove di carico servono per andare ad analizzare cosa che faranno i nostri tecnici, le strutture dei ponti sotto uno stress sia statico che per l'appunto dinamico, col passaggio di mezzi pesanti. Lo scopo è quello di valutare eventuali criticità, se mai viene fossile, di intervenire tempestivamente. Inoltre ci tenevo a ricordare come il 2021 sarà l'anno in cui la città metropolitana potrà iniziare a fare gli interventi e quindi a investire quei 66 milioni di Euro che lo scorso anno si è aggiudicata dal decreto ponti messo a disposizione dallo Stato. Vedremo quindi finalmente degli interventi strutturali importanti di milioni di Euro in diversi ponti della nostra rete come quello di Strambinello, il ponte Preti, il ponte di Carignano, di Alpignano, il ponte tra Castiglione e Settimo e altri ponti molto importanti che da tanti anni aspettano la corretta manutenzione. Le prove statiche servono a verificare la deformazione delle strutture, sollecitate con carichi di prova ad intensità variabile. Viene definito il comportamento elastico strutturale con la determinazione degli spostamenti e degli stati di tensione in corrispondenza di determinati punti. Le prove dinamiche servono invece a caratterizzare il comportamento delle strutture causato dal traffico veicolare, in modo da cogliere le accelerazioni prodotte dal passaggio dei mezzi pesanti.